Buongiorno a tutti, buongiorno a voi spettatori qui in sala Palazzo Mezzanotte, naturalmente un saluto rivolto anche a quanti ci stanno seguendo in streaming sul nostro sito www.lefonti.tv per questa settima edizione del nostro HR Forum, questo appuntamento ormai annuale che noi dedichiamo proprio alla riflessione rivolta allo sviluppo del mondo del lavoro e delle risorse umane, un tema che continua ad appassionarci ma che soprattutto continua a farci riflettere alla luce delle dinamiche che stanno caratterizzando questo periodo particolare che abbiamo definito post-pandemico, del new normal, dove però alcune tendenze che proprio si sono affacciate con la pandemia continuano a persistere, a perdurare come ad esempio col fenomeno della Great Resignation ma non solo, li vedremo, cercheremo di analizzarli proprio in questa mattinata di lavori e di tavole rotonde, cercheremo di fare luce sui diversi trend che stanno caratterizzando il mondo del lavoro e delle risorse umane in un periodo che, lo sappiamo, resta particolarmente complesso da gestire sia per le aziende che per i lavoratori in una cornice economica ancora difficile per tutte le sfide vecchie e nuove che continuiamo a dover affrontare dalla situazione incerta economica, finanziaria, la crisi dei mercati, le turbulenze del settore bancario, il perdurare dell'inflazione, tutti i fattori che naturalmente incidono sul mondo del lavoro. Parleremo poi anche inevitabilmente del ruolo della leadership che deve configurarsi in una maniera diversa proprio in un contesto che muta, che cambia e le nuove abilità che i leader devono sviluppare per cercare di attirare ma soprattutto di trattenere i talenti perché se c'è un fenomeno che caratterizza questo periodo storico è proprio l'altissimo, l'elevato turnover. Cercheremo di capire perché. In tutto questo assume proprio un ruolo centrale il contributo delle risorse umane, degli HR manager, degli HR director che non sono più solamente delle figure da interpellare ma in realtà proprio sono il punto nevralgico ormai eh delle delle aziende con la forza motrice del cambiamento e dei piani strategici. Tutto questo però non sarebbe possibile senza l'aiuto fondamentale della tecnologia, della rivoluzione digitale, tecnologica, tra l'altro con una nuova rivoluzione che si affaccia a quella legata all'intelligenza artificiale che modificherà in maniera irreversibile il mondo del lavoro. Ecco noi di tutto questo parleremo proprio eh in questa lunga mattinata di lavori qui a Palazzo eh Mezzanotte cercando di fare luce su questi punti che vi ho elencato grazie al contributo dei nostri speaker che ringrazio naturalmente per aver partecipato a questa settima edizione del nostro HR forum. Ma io non mi dilungo ulteriormente in chiacchiere perché possiamo iniziare proprio ecco questa mattinata di talk eh con la la prima eh tavola rotonda dal titolo un incontro difficile il mismatch domanda offerta nell'era digitale. E allora io invito i nostri primi speaker a salire qui sul palco ovvero Fabio Aiello head of corporate sales info jobs e poi ancora Stefania Barbato learning ed innovation program designer talent garden e Nicola Spagnuolo direttore CFMT centro formazione management del terziario. Eccoci qui benissimo ecco si accomoda anche il nostro ultimo speaker prego ecco il qua bene bene allora ecco siamo pronti appunto a a iniziare eh la nostra discussione in questa prima tavola rotonda un eh titolo insomma che già ci dice molto eh e pone l'attenzione su alcuni focus innanzitutto il mismatch ecco della domanda offerta nell'era eh digitale questa incapacità di eh trovare ecco dei dei talenti e le richieste del del mercato che non vengono sempre soddisfatte. Io partirei innanzitutto dal dottor Aiello eh anche perché ecco Infojobs eh sicuramente ci consente di fare una panoramica. Eh lei ha una posizione naturalmente privilegiata in tutto questo perché Infojobs è il sito di recruiting numero uno in Italia con sette eh milioni di candidati iscritti e cinque mila aziende che vi scelgono per individuare proprio i migliori talenti. Ecco quindi ecco da questa sua posizione di osservazione eh privilegiata ci fa ecco una panoramica di mercato quali sono i trend che caratterizzano questo periodo storico nel mondo del lavoro. Sì innanzitutto buongiorno buongiorno a tutti e grazie per l'invito questa importante occasione e riferimento per l'HR. Eh sì i numeri che ha che ha anticipato eh raccontano un poettino la nostra dimensione in termini di osservatore del mercato del lavoro eh siamo una realtà una digital company Infojobs eh presente che opera nel settore del recruiting eh siamo in Italia presenti al 2004 e con Subito.it eh facciamo parte di una multinazionale eh presente in dodici paesi che opera con successo in dodici paesi raggiungendo ogni mese circa un miliardo e trecento visitatori. Ecco questi numeri fondamentalmente rappresentano ricchezza per noi di informazioni e quello che abbiamo osservato era questo eh momento particolare ecco il nostro osservatore istituisce un un contesto socio-economico sicuramente molto eh sfidante e stimolante per le imprese che si trovano in questo momento ad operare a fare business. Al tempo stesso complicato ulteriormente da nuove modalità di approccio al mercato del lavoro eh sono fondamentalmente trasformate dal periodo post-pandemico. Tutto questo eh ha richiesto eh reazione da parte delle aziende. Oggi abbiamo osservato eh una maggiore attenzione eh verso quelli che sono gli interessi e i bisogni delle persone. Un po' un paradosso, no? Se parliamo delle risorse umane, definire un po' un ecco per le risorse umane un concetto di centra età delle persone, ma è quello che si sta riafformiando e lo abbiamo osservato nell'ultimo eh anno, nella seconda parte del duemilaventidue ed è un trend confermato anche inizio duemilaventidue. Attenzione alle persone, ai bisogni, agli interessi. Cosa significa? Significa per le aziende eh attivarsi ed attivare eh leve di eh di welfare aziendale con l'obiettivo che lei ha giustamente già anticipato di eh trattenere i migliori talenti e perché no anche acquisirne di nuovi. Questa è un'altra sfida e poi vedremo in avanti. Eh non solo welfare aziendale ma altro trend che abbiamo osservato è anche una modalità differente da parte delle aziende di poi andare a cercare competenze e quindi abbiamo osservato una leggera contrazione di quelli che sono i classici strumenti di comunicazione delle nuove offerte opportune di lavoro, faccio riferimento agli annunci no? Per gli operatori del settore, per recuperare ehm più energia e più attenzione rispetto a quello che poi oggi è la ricerca diretta. Quindi sempre più aziende abbiamo osservato hanno, che scelgono le nostre soluzioni, hanno scelto anche di affiancare al classico annuncio la ricerca diretta in database. Questo significa eh sicuramente privilegiare un approccio diretto, personalizzato e abbiamo osservato nell'ultimo anno, confermato il trend inizio 2023, come oltre il 40% di aziende si è aumentato e abbiamo scelto di affiancare al posting la ricerca in database, quindi con soluzioni mirate e tailor made che restituiscono già fondamentalmente uno screening dei profili più in linea, pronti per essere contattati. Questo se vogliamo è anche una sorta di eh effetto di quello che no? Beneficio che la tecnologia può eh prestare alle persone. Altro trend confermato così come per il 2022 anche il 23 eh sarà un anno importante dal punto di vista delle assunzioni e delle opportunità. Abbiamo eh noi ogni anno conduciamo eh delle indagini interne con le HR che utilizzano le nostre soluzioni e eh l'ottantasette per cento degli intervistati ha confermato come il 2023 sarà un anno ancora importante per la per le assunzioni. Se c'è un tredici per cento che ha confermato di eh preoccuparsi e attivarsi solo delle dimissioni c'è un interessante ventotto per cento invece anticipato importanti volume di eh di recruiting. Questo è il punto di vista delle aziende. Candidati, visto fondamentalmente qui il topic no? È il mismatch, la difficoltà di incontro, domande e offerte. Lato candidati abbiamo osservato come l'elemento retributivo è chiaro, rappresenta sempre no? Il principale interesse. Ma non è più solo quello. Esatto. Ecco questo insomma è già una un elemento importante che dobbiamo sottolineare perché proprio questa è una diciamo tendenza che si è affermata sempre di più consolidata dalla pandemia in avanti. Eh si ha un approccio nei confronti della della professione del lavoro ben diverso rispetto agli anni ottanta, novanta insomma dove il lavoro era un po' il centro no? Dell'esistenza. Invece adesso c'è un ribaltamento di gerarchie, si considera la propria eh diciamo la possibilità innanzitutto di conciliare gli aspetti della vita privata e quelli della vita lavorativa come un must. Eh quindi ecco tutte le le cose legate all'autorealizzazione personale e non solo professionale diventano eh indispensabili ecco per cercare proprio di attrarre i lavoratori migliori. Sì sintesi perfetta è quello che ha restituito il nostro osservatorio, stesse indagini le conduciamo anche sui candidati ed emerso dicevo prima no? L'elemento retributivo sì ma non solo soprattutto per i più giovani. Più giovani che oggi sono attenti eh e ricercano delle opportunità di lavoro dei progetti eh ricercano eh quindi ehm offerte chiare, progetto età chiara, eh occasione di eh prospettiva e sviluppo eh ricercano un purpose, uno scopo aziendale in cui rivedersi e al quale contribuire per poter essere sempre più protagonisti fondamentalmente. Ovviamente anche l'aspetto del benessere, clima aziendale, quello si definiamo ormai da tempo work life balance no? Quindi possibilità di conciliare vita personale e vita professionale è un altro must, quindi un'altra eh esigenza a cui oggi i candidati soprattutto più giovani non sono disposti a a rinunciare. Certamente ecco quindi ecco diciamo che il termine valore e valori assumono una significato insomma sempre più eh di rilievo al di là ovviamente anche del dall'aspetto retributivo che sicuramente rimane importante e soprattutto l'abbiamo detto nell'introduzione in un momento di di crisi economica dove insomma ci sono tanti fattori che stanno limitando proprio il nostro potere d'acquisto e quindi tutto questo si riflette poi eh sul benessere eh delle famiglie ma non c'è solo questo aspetto e ne parleremo tanto naturalmente in questa eh mattinata. Ecco un'ultima eh riflessione con il dottore Agliello perché i dati appunto e ritorniamo alla parola mismatch parlano in maniera incontrovertibile proprio no di questa discrepanza tra eh il le richieste del mercato del lavoro e poi insomma le effettive ehm le effettive competenze disponibili sul mercato ovviamente noi pensiamo immediatamente ai profili STEM cioè a quelli legati alla scienza alla tecnologia all'ingegneria e eh e via discorrendo però lei mi diceva in realtà che il la panoramica il quadro è molto più ampio ecco quindi le chiedo quali sono i profili più ricercati e quelli che invece mancano nel mercato del lavoro di oggi. Sì e anche qui il quadro l'ho già anticipato in realtà è molto più ampio rispetto a quello che si possa pensare quantomeno rispetto al passato non più solo STEM quel cluster no di profili legati un po' a tutto il mondo della scienza tecnologia non è solo quello eh purtroppo magari anche per fortuna se riusciremo poi a cogliere le opportunità molto più ampio riguarda un po' ogni eh ogni azienda in qualsiasi comparto in maniera piuttosto trasversale sempre il nostro osservatorio ma non solo il nostro osservatorio. Ha restituito evidenze di come oggi tra i profili più ricercati qui si fa eh era un segnale a me per abbassare un po' il tema forse no e qui si fa più difficoltà di reperimento c'è anche ehm la figura di specialistiche specializzate come l'operaio specializzato oggi fondamentalmente si raggiungono eh in certe situazioni e contesti il sessanta per cento delle vacanze non si riesce a coprire non solo questi pensiamo anche a profili specialistici come i conduttori di vettori le professioni eh sì intellettuali eh ma anche le professioni qualificate e legate al mondo del commercio e dei servizi lì si è raggiunti si è raggiunti punte del quarantacinque quarantotto per cento no di di eh difficoltà di reperimento e le previsioni fondamentalmente attuali nel medio periodo non sono sicuramente no eh diversi o più ottimistiche non solo dal nostro osservatorio ma cito anche un'altra fonte il rapporto eccelsiori non camere eh ha previsto come nel trimestre aprile giugno eh saranno attivate oltre un milione e mezzo di nuove assunzioni 70 per cento nei servizi questo significa un più 13.5 rispetto allo scorso eh lo scorso anno quindi anno su anno stesso periodo ma è prevista anche un'ulteriore difficoltà di mismatch addirittura si parla di un quarantacinque per cento no di difficoltà nel recuperare queste queste posizioni e le aziende come reagiscono eh lo abbiamo chiesto ai alle nostre aziende agli HR ogni anno noi conduciamo indagini anche quest'anno l'abbiamo condotta nel primo trimestre e le informazioni raccolte rispetto alle sfide e le priorità per per le aziende ci hanno consentito anche di tracciare quello che possiamo definire un un quadro una piccola dei principali trend di HR per il 2023 ed è un qualcosa che lei già ha citato prima no? Ha fatto riferimento a retention oltre che attraction. Oggi per le aziende diventa un massimo una priorità eh trattenere i propri talenti i propri i proprie persone eh sforzandosi non solo con azioni welfare come dicevo prima ma anche con investimenti importanti nell'ambito delle competenze quindi parliamo di upskilling reskilling eh parliamo di competenze tecniche cosiddette hard skills per noi operatori del settore ma anche competenze trasversali soft skills sempre più importanti oggigiorno e questo lo si vuole traguardare attraverso quindi piani formativi importanti ma anche una cultura eh dell'azienda. Prima ho fatto riferimento alla centralità della persona no? Approccio people centric eh che dovrebbe essere un must per noi HR ehm che poi è anche il pilastro di un'employee experience di successo bene chiedere fondamentalmente contributo al proprio personale al proprio collaboratore dipendente vuol dire in qualche modo tenerlo ingaggiato vuol dire responsabilizzarlo e renderlo protagonista di quelli che poi sono sviluppi successi e evoluzioni anche di un'azienda ed è un modo anche per no? Fidelizzarlo un po' di più dovrà essere questo è un elemento eh sulla bilancia per prima di eh compiere scelte magari di cambiamento. Certo è un obiettivo insomma non facile da raggiungere perché abbiamo detto prima no? C'è questo grandissimo turnover che viene registrato eh dai dati quindi si fa fatica proprio a fidelizzare eh il lavoratore all'azienda bisogna mettere sul piatto insomma delle eh delle cose importanti per far sì che eh il lavoratore ecco si leghi eh di più all'azienda e non passi continuamente eh da un contesto all'altro. Lei ha citato dottor Aiello ovviamente il tema delle competenze e qui io coinvolgo eh Stefania Barbato di di Talent Garden che è una delle community tecnologiche più innovative d'Europa e eh qual è il vostro obiettivo? Quello proprio di creare opportunità di formazione e di networking nell'ecosistema digitale e quando citiamo la parola digitale per il contesto italiano diciamo che andiamo a toccare un punto un po' dolente eh rispetto alle competenze del nostro paese. Io sono andata a vedere un po' ecco la la classifica, l'ultima classifica ufficiale eh sulla eh la digitalizzazione all'interno dell'Unione Europea e su 27 paesi l'Italia al venticinquesimo posto davanti solo a Bulgaria e Romania. Quindi insomma una sfida bella impegnativa. Proprio a partire ecco da questo dato, da questa classifica io le chiedo quale metodologia e approccio utilizza Talent Garden per cercare di vincerla questa sfida? Grazie mille Valentina e buongiorno a tutti. Eh sì diciamo che come Talent Garden abbiamo un bel po' di lavoro da fare in Italia e siamo magari spendo qualche parola anche un po' per raccontare chi siamo. Siamo una digital skills platform, siamo presenti in questo momento in più o meno in tutta Europa, abbiamo 13 sedi, in realtà abbiamo anche un'acquisizione internazionale con Hyper Island e quindi siamo presenti anche in altri stati extraeuropei tipo America, Singapore. Sì allora il tema digitale è un po' un tema cruciale in questo periodo, lo stiamo riscontrando a più livelli. Come come Talent Garden abbiamo, partiamo da una dimensione di campus diciamo quindi formazione pure in cui si fa school su competenze digitali quali design, data analytics soprattutto, tanto digital marketing che citavamo anche prima e materia STEM. In realtà poi abbiamo anche altre dimensioni e in particolare io sono in questo momento qui per la dimensione B2B, il team di corporate transformation che lavora principalmente con le aziende e come team appunto che si suddivide in tre filoni e copre dal farmaceutico ai servizi finanziari passando per le large corporates in generale, riscontriamo a più livelli una necessità molto importante di coprire queste competenze digitali sia in tematiche di nuove assunzioni sia proprio con tematiche di fare reskilling di chi è già presente all'interno dell'azienda, a più livelli di popolazione, quindi non pensiamo soltanto alle fasce più senior ma anche quelle più giovani. Quello che facciamo è quindi creare dei percorsi di formazione che incidono su diverse categorie di persone, quindi dalla tematica del leader alla tematica del talento che appunto va coltivato, alla tematica anche appunto della popolazione aziendale a più livelli. Ancora quello che riscontriamo è che anche a livello di skills si sono sì le skills digitali, quindi quelle un po' più orizzontali che poi magari vedremo anche meglio, ma in realtà c'è anche proprio un tema di andare più a fondo con le skills verticali, quindi se parliamo di settore finanziario approfondire quali sono le tematiche fintech, le tematiche di equity crowdfunding, di lending di cui possiamo trattare. A livello di education è quindi rivolta sia verso le aziende ma anche verso l'esterno, ad esempio prima citavamo delle statistiche, secondo l'ultima statistica Istat abbiamo il 22,9% di giovani che sono inoccupati in questo momento, li categorizziamo appunto come NIT, quindi giovani che né lavorano né in questo momento studiano. Quello che stiamo facendo ad esempio con un grande gruppo bancario è proprio creare un percorso di formazione non sulle classiche materie STEM che prima venivamo citate, ma appunto su un percorso di digital marketing per reintegrare questi giovani nel mondo del lavoro. Quindi queste sono un po' alcune delle attività che facciamo, in realtà poi anche sulla parte di talent retention che citavamo prima, aumentando la richiesta da parte dei gruppi bancari proprio di creare dei viaggi formativi, sia per un discorso di contaminazione che per noi è il punto cruciale di quello che facciamo, quindi contaminarci con altre aziende, capire che oltre al mondo della grande azienda in cui siamo ci sono anche altre dimensioni che possiamo apprendere anche magari da realtà un po' più piccole e mai ipertecnologiche. Quindi anche i viaggi di formazione sono molto richiesti in questo momento e ci stiamo spingendo tanto in questa direzione. Ecco, a proposito di formazione, poi naturalmente su questa parola coinvolgerò anche il dottor Spagnuolo, un ultimo input, perché io so che il vostro motto è impara da chi fa, con una forte componente proprio di contaminazione. Che cosa vuol dire a livello pratico e quali sono i risvolti positivi di questa contaminazione? Certo, allora noi nasciamo appunto come community di start-up, quindi ovviamente gli imprenditori sono il cuore pulsante di tutto quello che noi vediamo e viviamo ogni giorno. E andando a creare questi percorsi di formazione ci siamo chiesti quale potesse essere un po' il modo migliore di creare non la classica lecture orizzontale in cui abbiamo lo studente seduto che ascolta e apprende, ma creare qualcosa un po' più esperienziale. E abbiamo quindi ideato un percorso che possiamo dire che è triplice. Abbiamo un momento di visione, di ispirazione in cui appunto chiamiamo un expert in grado di dare una visione alta alla popolazione aziendale. Successivamente entriamo nella parte di learn, quindi la lecture vera e propria in cui andiamo a insegnare le skill. E infine abbiamo la terza parte che è quella dei workshop in cui chiediamo agli stessi alunni di lavorare su progetti concreti che magari possono essere utili all'azienda, quindi non soltanto un piano teorico ma un piano di innovazione vera e propria. Quindi per fare tutto questo molto spesso abbiamo riscontrato che gli stessi imprenditori sono i docenti migliori perché lavorando su progetti, su attività imprenditoriali ogni giorno hanno delle skills pratiche che riescono a trasmettere quasi per osmosi agli studenti. È un progetto molto interessante e qui io coinvolgo proprio anche Nicola Spagnuolo del centro di formazione e management del terziario sul concetto di formazione permanente. Ormai lo sentiamo citare molto spesso, è una necessità vista la mobilità estrema del mondo del lavoro, del mercato del lavoro e anche la competitività tra le aziende. Voi quali nuovi criteri adottate in termini proprio di formazione e di employability dei manager? Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto una prima puntualizzazione è questa, noi ci rivolgiamo ovviamente soltanto ai manager, quindi ai dirigenti. Il CFMT nasce 25 anni fa dal contratto collettivo del terziario, manageritari e confcommercio già 25 anni fa, decisero la creazione del CFMT e all'interno del CFMT circa 30.000 dirigenti fruiscono della nostra formazione per più o meno 9.000 aziende. Il tema della formazione permanente in questo momento per noi è prioritario. Da qualche anno abbiamo spostato un po' l'asse della nostra attenzione dal ruolo aziendale, dalla funzione aziendale alla persona in quanto tale. Perché questo? Perché il ragionamento che le faceva prima non solo mi convince, ma sono molto 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 d'accordo con lei, cioè questa evoluzione continua sia nell'ambito delle aziende ma soprattutto nell'ambito delle carriere delle persone e in particolare dei manager è molto rapida e quindi richiede un costante aggiornamento di competenze. Una precisazione però che occorre fare è che è certamente necessaria la formazione permanente, che va però affiancata alla formazione continua, mi chiede un po' meglio. Da un lato è necessario tenere sempre aggiornate quelle competenze tecniche, anche per i manager, magari non profonde in maniera del tutto verticale, però è necessario mantenere quelle competenze in addestramento, mi verrebbe da dire, utili al saper fare delle cose nuove. Le evoluzioni tecnologiche, la sostenibilità richiedono delle competenze tecniche verticali che hanno bisogno di una costante manutenzione e di un costante aggiornamento, quello però attiene all'ambito dell'addestramento. Altro è la competenza di tipo invece orizzontale, l'apprendimento. La vera differenza fra le due è che la seconda, l'apprendimento, attiene al saper essere, non al saper fare. In questo momento la competenza forse più importante per i manager, a cui noi siamo più attenti, se vuole, in questo periodo storico, è proprio questa, cioè quello di sapere essere diversi rispetto a qualche anno fa, perché tutto è molto cambiato intorno alla figura del leader e del manager. Ed è necessario che anche loro stessi cambino in qualche misura il loro approccio alle cose e alle persone. Quindi in questo senso abbiamo messo al centro la persona, ma nel senso che stavo dicendo prima. Così facendo abbiamo sostituito un po' l'intera nostra offerta, che non è più fatta di corsi, ma di esperienze formative all'interno di learning path, cioè di percorsi, all'interno dei quali però ogni singolo dirigente stabilisce i propri obiettivi personali, di vita, familiari e anche professionali, mettendo però tutto insieme, mai scendendo gli ambiti di vita, cioè personali, familiari o professionali. La persona è unica e tale rimane. E questa è la vera sfida, cioè riuscire ad interpretare i bisogni delle persone, a prescindere dalla dimensione in cui essi operano, sia quella familiare, personale, piuttosto che professionale, piuttosto che, ma l'importante per chi fa il nostro mestiere, suppongo anche per Taring Garden, ma in parte anche per voi di InfoJob, ecco la vera sfida è questa, cioè quella di interpretare i bisogni delle persone, nel nostro caso dei manager, al di là della funzione aziendale ricoperta in quel dato momento. Certo, ecco, non considerare il lavoratore come un semplice impiegato all'interno di un'azienda, ma come una persona che porta il suo valore, il suo talento all'interno del contesto lavorativo. Ecco, io mi raggancio ad una frase che lei ha detto, cioè ogni persona è unica, ecco come si può rispettare tutto questo nell'ambito della formazione, cioè la formazione quindi deve diventare personalizzata oppure standardizzabile? Guardi, dipende dalla tipologia di formazione, lo dicevo prima, la formazione in addestramento è standardizzabile, la formazione continua è necessariamente standardizzabile, per mille ragioni, anche per una questione di mero costo, difficilmente è standardizzabile la formazione rivolta alla crescita della persona in quanto tale, è poco standardizzabile per quella dimensione di unicità che diceva lei prima, ma non soltanto, è poco standardizzabile anche perché occorre fare un passo indietro. Esistono tre tipi di formazione, la formazione formale, non formale e informale e noi spesso ce ne dimentichiamo, noi spesso, noi operatori della formazione intendo, ci rivolgiamo ad un solo ambito di formazione che è la formazione formale, formazione da aula o anche no, ma in qualche modo occorre che ci sia un prodotto formativo dal quale astrarre in qualche misura delle competenze, in realtà non è poi così vero. Se lei ci pensa, le occasioni di apprendimento nella vita di ognuno di noi sono tantissime, è soltanto che le releghiamo in ambiti nei quali abbiamo appreso quel tipo di competenza, le faccio un esempio, io ho due figli, non sono una persona estremamente creativa, però da piccolo ho imparato a giocare con i Lego piuttosto che con le bambole di miei figli inventando storie del tutto assurde, ma sviluppando tantissima creatività e come me immagino tanti di noi abbiano fatto esperienze simili. Ora, se noi riuscissimo soltanto a riportare in ambito professionale quel tipo di competenza appresa in un ambito del tutto diverso, ma pur sempre funzionale ad una qualche competenza utile a migliorare se stessi, quindi ribadisco non il saper fare, ma il saper essere diversi in ambito professionale, ma quanto varrebbe questa cosa qui? Quindi la capacità di trascrizione della formazione e delle esperienze formative apprese in vari ambiti deve diventare una capacità della persona, cioè prima ancora che ragionare di personalizzazione della formazione noi dobbiamo imparare ad imparare, imparare ad apprendere, non so se mi spiego, sembra un paradosso ma è estremamente importante. No, no, certo, mi fa venire in mente anche una cosa, cioè che tutti noi in realtà al di là dell'ambito lavorativo siamo contemporaneamente studenti e maestri in continuazione, ecco, rispetto naturalmente alle persone con cui entriamo in contatto e quindi il nostro bagaglio si amplia sempre enormemente attraverso l'esperienza, attraverso lo studio, attraverso la formazione. Ecco, per chiudere la tavola rotonda, un'ultima domanda che rivolgo a tutti e tre i miei speaker, ovviamente sulla base delle riflessioni che abbiamo fatto, volevo chiedervi ecco, quale cambiamento culturale legato al mondo del lavoro vi auspicate da qui ai prossimi cinque anni, partendo dalla dottoressa Barbato? Sì, diciamo che pensando anche un po' a quello su cui noi stiamo puntando molto, dato che parlavamo di digitalizzazione, ne parlerei anche a livello di due macro aree che stiamo vedendo sempre più richieste, io vengo dall'ambito finanziario, mi occupo esattamente di quello e vedo che stanno aumentando tantissimo, quindi integrare nel digitale la visione della sostenibilità, penso magari nel processo specifico, non lo so, a Carbon Data Scoring, quindi utilizzare sempre di più piattaforme che possano effettivamente darci una maggiore visione di come implementare la sostenibilità nella nostra vita, ma poi anche lo stesso Web3 a livello non di speculazione ma di tecnologia, quindi secondo me è qualcosa che impatterà sempre di più, non cito l'intelligenza artificiale perché in questo momento è quasi abusato, se penso di tra cinque anni mi vedo sempre più sostenibilità e Web3, quindi direi questa. Dottor Aiello? Devo confermare quanto ha anticipato la collega del talk, perché digitale è forse la parola chiave in questo momento, digitale come alleato principale delle persone, ha citato l'intelligenza artificiale, fondamentalmente l'obiettivo di tutte queste evoluzioni è sempre aiutare l'uomo a essere più efficiente, più efficace e quindi una parola fondamentalmente è liberare tempo, tutte quelle attività un po' time consuming che possono fare algoritmi, software, liberare tempo per le persone, da dedicare alle persone. Abbiamo detto la centralità delle persone, approccio people centric, lo possiamo questo mettere in pratica davvero se il tempo lo recuperiamo e lo dedichiamo ad attività di maggior valore, come parlare con le persone, preoccuparci dei propri interessi e bisogni, il benessere aziendale, quindi saper essere, prendo fondamentalmente uno spunto di riflessione della collega di talk, con una però consapevolezza, laddove non ci siano le competenze sufficienti, coraggio, affidarsi a specialisti di settore. Noi questo è un trend che abbiamo osservato sul finire dello scorso anno e quest'anno sono aumentate delle richieste da parte di soprattutto piccole e medie imprese, non sempre la piccola e medie imprese ha un dipartimento e ci ha strutturato, tante volte chi si occupa di ricerca e selezione è il titolare, abbiamo detto prima, acquisisce competenze, o è un responsabile di un dipartimento produttivo o ufficio acquisti, le competenze lì di un human resource non ci sono. Ebbene abbiamo osservato come in questi casi consapevolezza, lungimiranza, affidarsi a chi, specialisti del settore, può dare una mano per comunque utilizzare quel beneficio. Il digitale è un alleato delle persone, si è saputo utilizzare. Bene, allora tante parole chiave le abbiamo già messe sul piatto, digitale, consapevolezza, lungimiranza, tocca a lei, dottor Spagnuolo, arricchire il nostro nuovo vocabolario del mondo del lavoro. Allora inserisco un nuovo concetto, quello di apprendimento organizzativo e vi spiego perché. Quello che mi auguro è che la formazione diventi un valore di sistema, cioè la formazione di per sé è neutra, non ha valore, è come le vitamine, se le prendo non mi fanno male, ma di per sé non ha valore. Se non gli si attribuisce un obiettivo chiaro, la formazione è neutra, deve sapere a cosa deve essere utile, la formazione è utile se serve a qualcosa. Quindi il punto centrale è che in questo momento noi stiamo osservando quasi in maniera bulimica una fortissima richiesta di formazione, da ogni punto di vista noi in CFMT ce ne stiamo accorgendo quasi quotidianamente. Qual è il rischio che vedo? È che anche laddove i manager dovessero formarsi così tanto, se questa formazione rimane a livello prettamente individuale e quindi non infonde di sé l'intera struttura organizzativa, il sistema non cresce. Il vero passaggio non è tanto formare i manager affinché diventino dei manager illuminati, è far sì che questa illuminazione del singolo manager, anche a seguito della sua formazione, diventi un patrimonio istituzionale all'interno dell'azienda affinché questa possa crescere. Perché se questo passaggio manca, disperdiamo tantissime risorse che stiamo in questo momento investendo in formazione. Abbiamo formato tantissimo, ma se di questa formazione non ne trae beneficio la singola azienda e evidentemente l'intero sistema economico e aziendale, abbiamo fatto soltanto la metà del nostro percorso. Io ringrazio i miei ospiti naturalmente per il loro intervento e le loro riflessioni, Fabio Aiello, Head of Corporate Sales e Info Jobs, Stefania Barbato, Learning and Innovation Program Designer di Talent Garder e Nicola Spagnolo, Direttore del Centro Formazione e Management del Terziario. Grazie ancora per aver partecipato al nostro forum.